Il tema della ricezione della commedia è evidentemente un tema centrale perché tocca un aspetto decisivo, che cosa ha rappresentato, che cosa rappresenta la commedia nel corso dei secoli e oggi. Il percorso molto lungo e anche vario parte da molto lontano, dal primo decennio del Trecento, che è l'epoca a cui risale un ufficiolomo, cioè un libro di preghiere di Francesco da Barberino, che presenta delle rappresentazioni, delle figure che evocano o sembrano evocare proprio degli episodi famosi dell'inferno. Quindi se questo collegamento è corretto, il testo farebbe pensare ad una stesura e anche ad una circolazione almeno dell'inferno molto precoce. Poi naturalmente abbiamo secolo per secolo altri testi, alcuni dei quali non del tutto attesi soprattutto per una scuola. C'è per esempio un testo che contiene il testo di Dante con il commento in latino. È il commento derivato da un grande commentatore della commedia, Benvenuto da Imola. È un percorso che sembra andare in controtendenza, spiegare il testo di Dante col ricorso al latino. Oggi probabilmente i ragazzi in generale non troverebbero troppo comodo questo passaggio, che però era assolutamente naturale nel Medioevo. Non c'è naturalmente solo l'ambito letterario, perché a Dante hanno guardato anche artisti di altra provenienza. Si espone fra l'altro, così arriviamo all'Ottocento, uno spartito di Rossini che presenta un recitativo del canto forse più famoso dell'intera commedia, cioè quello di Francesca da Rimini. E poi abbiamo, soprattutto per quanto riguarda gli anni secolo XX e anche il XXI, una rappresentazione iconografica rivolta e concepita per un largo pubblico. Questa serie di rappresentazioni iconografiche spesso hanno anche un grande valore artistico, come le cartoline di Anichini, che risalgono al 1918. Nell'ultima stanza, nella conclusione di questo percorso, troviamo poi un esperimento particolarmente interessante, un esperimento scientifico. Rientra nel percorso che è stato chiamato neurodante. Vale a dire la misurazione, è proprio il caso di dire, attraverso strumentazioni scientifiche a partire da un elettroencefalogramma, delle emozioni che si provano sentendo qualcuno che legge la commedia o leggendola noi stessi, con tutte le variazioni del caso. Cambia la nostra percezione se a leggere un uomo o una donna e un dato molto significativo che può subito essere sottolineato è che il grado di emotività, di partecipazione o, se vogliamo, di vibrazione estetica è in generale più forte per le persone più semplici. Gli studiosi restano, tutto sommato, più freddi rispetto al cosiddetto uomo della strada. Questo dato è di grande interesse in sé, naturalmente, è un dato che conferma quanto Dante sia patrimonio comune, non solo degli specialisti che hanno allestito questa mostra.